il pittore maurizio rapiti classe 1985 nato a san sepolcro che vive e lavora nella vicina cerbara di città di castello presenta la sua mostra percezioni surrealiste al numero 26 di via roma ad arezzo nello spazio w e 5200 co working è una mostra a cura di marco botti allora intanto come nasce l'idea di presentare dei quadri in un co working che è uno spazio aperto a tanti professionisti che trovano una sorta di ufficio in in affitto si potrebbe dire così si pratica un giovane architetto un giovane fotografo che non può magari investire all'inizio della propria carriera per un locale può affittare lì tranquillamente una scrivania con corrente elettrica connessione internet e fare il suo ufficio lì l'idea è stata di marco botti che ti ha invitato a presentare quante quali opere ma mi ha invitato a presentare event una ventina di opere e soprattutto prevalentemente della mia produzione recente per allestire abbellire questo spazio che di per sé è molto bello e sono molto curate l'illuminazione proprio spazio in generale arredamento e tutto quindi i quadri stanno particolarmente bene si direbbe che ogni opera è messa sotto la miglior luce assolutamente si è predominante la figura femminile una figura femminile che è quasi una musa ispiratrice che spesso si staglia su paesaggi surrealisti ed è la figura femminile stessa in situazioni surrealiste appoggiata su cornici oppure su spazi che vengono frammentati da un terzo incomodo che spezza la figura come se si trattasse di un sipario si può parlare di surrealismo si assolutamente perché ci sono questi giochi dove appunto spesso il soggetto non si capisce bene su quale realtà si trova se all'interno di un quadro all'interno di un'opera dentro l'opera oppure se sta intervenendo gli stessi il soggetto per modificare la realizzazione dell'opera stessa quindi anche sono dei giochi sono dei giochi quelli che si vedono spesso all'interno delle mie opere allora però il surrealismo è un po il risultato di una grande esperienza di coppista infatti questa è una delle tue attività lavorative quella del riprodurre le grandi opere dei capolavori del passato sì sì in quel modo ho iniziato a dipingere in quel modo ho imparato a dipingere mi sono approcciato a colori ad olio ho imparato la tecnica approcciandomi appunto con i grandi pittori del passato copiando e imitandoli dovresti citarne uno qual è quello che preferisci waterhouse ecco e invece tra i surrealisti ma gritt ecco quando ti paragoni nei surrealisti non lo consideri affatto spesso gli autori che vedono un paragone a qualcuno del passato lo sentono come astringente il paragone nel tuo caso non è così no non è così perché è da lì che è partito il surrealismo insomma quindi da magritte parte tutto poi naturalmente gli do un'interpretazione personale quindi se mi viene riconosciuta perlomeno la mia chiave di lettura per me è sufficiente insomma nelle tue opere c'è quindi un surrealismo rinnovato con dei colori pop e qual è l'elemento che riconosci più tuo qual è il modo con cui credi di aver rinnovato il surrealismo se c'è sa che questo potessi dirlo io diventa complicato comunque semplicemente una chiave di lettura nuova forse è legata anche alle influenze che hanno avuto anche la modernità in cui uno vive la società contemporanea in cui io vive offre tanti input che poi se uno riesce a elaborarli inserire in un'opera naturalmente in un quadro di 200 anni fa non li trovi è vero che il colore preferisci è l'azzurro assolutamente sempre presente nei miei quadri tutte le sue sfumature e l'odoro figura femminile azzurro e la pace è la sensazione che si respira in quasi tutte le opere è quella che ricerchi sì il quadro deve rimanere in vibrazioni positive nell'osservarlo non ci deve essere tensione quindi l'osservatore deve essere rilassato deve essere un piacere guardare il quadro ricordiamo ai telespettatori esattamente fino a quando rimane aperta percezioni surrealiste fino al 5 dicembre in arezzo e dico bene al numero 26 di via roma nel co-working w e 50 200 esatto auguri grazie perfetto grazie grazie